La Sandra Bate scacciola la crisi e torna al successo nel match contro la Vitulano-Manfredonia. Al Del Mavono, nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, gli uomini di Mister Scarpetti regolano la compagine Sino Pontinà con un netto 6-2. La partita si mette in discesa per i padroni di casa già nella prima frazione. Apre le danze al sedicesimo, Bisiac dopo un giro e mezzo di lancette raddoppia dal CIN a 10 dello scadere della frazione e il neopivot della compagine erpina Alex a firmare la rete del 3-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa il calcettista Iberico sale in cattedra, prima firma il poker al minuto numero 13 del secondo tempo e poi appena 20 secondi dopo il momentaneo 4-1 segnato da Boduzzi cala la tripetta personale al quindicesimo. Al diciottesimo è Cutrugnelli a regalare il secondo gol ai Poiesi di Avellino. Infine al diciannovesimo la rete con cui si conclude il match. Al termine della gara il tecnico Scarpetti fa il punto dopo la prima vittoria sotto la sua gestione tecnica. Abbiamo avuto un periodo di difficoltà che è coinciso anche con prestazioni non esaltanti. Le due partite insomma inutili nominiamo sempre, giocate malissimo. Però nelle ultime due gare questa è una squadra che stava dando segnali di ripresa, è una squadra che stava prendendo un'identità totalmente diversa. E' chiaro abbiamo perso due giocatori comunque di valore qualitativo importante, avevamo bisogno di una mano dal mercato, la società è stata grandiosa a fare un intervento importantissimo come l'arrivo di Alex. E l'arrivo di questo giocatore di per sé non ha cambiato le sorti della squadra e delle gare, semplicemente ha dato qualcosa che mancava a questa squadra e ha dato fiducia a tutto l'ambiente perché abbiamo visto che la San Drabate è viva, è viva come società e viva anche come squadra. Abbiamo risposto anche positivamente alla società che sta facendo sforzi importanti per noi. Grazie.